O rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci annoda Dio, catena d'amore che ci fa fratelli, noi non ti lasceremo mai più. Dalle nostre mani sarai arma di pace e di perdono, stella del nostro cammino, e il bacio a te con ultimo respiro ci immergerà in un'onda di luce, nella visione della Madre amata e del Figlio Divino, anelito e gioia del nostro cuore, con lo Spirito e il Padre. Amen. Così dà una piccola supplica alla Vergine di Pompei nella sua terza parte. Grazie per la visione!